volevo rendervi a tutti di una sottile comunanza culturale allora qua in sardegna un amico che io gli amici gli amici giusti e così si educa i bambini questi quindi vedi questi qua da no e savona porco dio si chiamano cioè c'è un cannolo allora quando tu vai al bar alle 4 le mattine da 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 benzi come si chiamava quello di benzi a savona se sofia mi mangia ancora un cannolo a marzo si chiamavano cannoli si chiamano cannoli tutti le nostre sono cilindrici questi sono con questi vengono dalla pasticceria di siniscola provincia di nuoro i nostri si chiamano cannoli allora si andava al mattino le tre e mezza dopo aver pescato e bestemmiato perché non trovavi niente al stile di hemingway arrivava e diceva abri dammi un cappuccino cannolo e sentivi subito quando uno era il sapore perché abri un cannolo cannolo solo un savonese questo può dire cannolo hai capito ma era la situazione cerchiamo di capire quando hai gli amici giusti